Secondo premio, io sono Dio, di un mese di un'esercizio, primo premio, a Bariac, di un'esercizio di un'esercizio. Ed eccoci allora, siamo sul caro dei vincitori, da pochi minuti è stata annunciata la vittoria di Fabrizio Galli, il suo Barbarians ha conquistato il primo premio del Carnevale di Viareggio 2016, una vittoria che era già nell'area, i pronostici sono stati rispettati e in questo momento vedete la festa che esplode a bordo del grandissimo caro di prima categoria, vincitore del Carnevale 2016. Andiamo a sentire l'emozione a caldo del vincitore. Una grandissima vittoria, un'emozione che possiamo solo immaginare ma che sarà enorme. E' enorme perché è una vittoria che prende tutti, prende tutta la gente, prende la giuria e quindi sono quelle vittorie che accadono ogni tanto. Il primo premio è tornato in casa Galli finalmente. Infatti lo stavo dicendo prima, a maggio è 30 anni che è morto mio padre, ad aprile Arnaldo avrà 90 anni e abbiamo rimesso i Galli sul tetto del Carnevale. Quindi la dedica va automaticamente a tutti i maestri di famiglia Galli? E' certo, vanno a loro, va a Giorgio Galli, va a Roberto Galli, va a Gabriele Galli, va a Valentina Galli, va a tutti i Galli insomma. E' da dire con una vittoria che non ha mai sembrata in dubbio, fin dall'inizio. Così sembrava ma sai, poi c'è da conquistarla sul campo, anche oggi c'era cinque giurati quindi dovevamo convincerli e probabilmente abbiamo convinto anche loro. E' stato determinante a far scattare la molla in te il sistema delle promozioni che ha fatto rinascere un po' questa forza? Allora io l'anno scorso ho detto una cosa, eravamo dalla parte opposta e all'atto della premiazione quando ci hanno dato l'ultimo premio ho preso il microfono e ho detto siamo arrivati ultimi ma possiamo arrivare primi. E' da lì che è scattata la molla. E così è stato, hai rispettato quanto promesso. Sì, ci ho messo tutto me stesso per dimostrare che io non ero l'ultimo dei carristi e ce l'ho fatta.